musica allora oggi interrogo bianchi francesca ok traducimi la frase il passatempo preferito di Marta e leggera ok musica 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 allora questa frase è parlata proprio perché c'è l'articolo davanti al nome proprio di persona per ricordarci che per esserci mai l'articolo davanti al nome possiamo usare questa strategia essendo che il nome è composto da no e me in questa prima parte si legge no quindi no al articolo davanti al nome proprio imposto calcolare perfett monti c'è l'articolo davanti per areas no no Grazie a tutti.